buongiorno a tutti ragazzi ben ritrovati come vedete ho cambiato armatura perché perché stavo dicendo ah dai di qua ho cambiato armatura perché ho fatto un po di farming e come vedete posso posso lanciare i fulmini ho fatto un po di farming praise the sun oh cazzo non l'ho ucciso ok ok ho fatto lo stupido ho fatto il coglione lo ammetto era tutto esaltato perché potevo lanciare i fulmini si allora il mira lancia dei fulmini lo comprate da una liscia di lindelt che è quella che è ben parlato al dopo il cavaliere dei draghi si dopo si sposta all'incrocio da quando andate da maiula alla torre di heider c'è un passaggio sotto la trovata di che si è spostata ok morti con me lasciato scudo del soldato vuoto ok e possiamo motivare non potenziarmi la fede che avevo poca e intanto mi hanno troppato la armatura questi qua sono piuttosto facili a soli infatti infatti ce n'è un altro ha già ho cambiato l'arma ho preso la scimitaria quella dei vari aghi che è piuttosto forte come arma perché è veloce e così mi sa che anche un uno stordimento più alto della spada di heider ma poi dipende forse forse da riprendono acqua dai fammi la carica beh volevi stranzetto pensava che che io l'avesse evitato o luogo del persecutore che vai ricordi che velo ti ricordi c'è e mangio a morti questo qui cosa fanno vandalismo non togliere il vandalismo io non si uccidono i giganti già morti va bene ok hanno capito per sempre scavola qua un nido siamo de esamina siamo degli uccelli ma che non sono nuovo perché sono bianco ma dove ci porta ora ci ha mangiati ah non ecco qui è proprio dedicato ma com'è che come che si è lasciati proprio nel punto o un follow finalmente fortuna vabbè sì così per recuperare un po i miracoli e qui che cavolo già perché non pesano così tanto i effigioni a 2 e qua invece mi è arrivato in faccia tizone smorto tizone smorto salverà più avanti ovviamente l'hanno identificata come chiave quindi attenzione al bordo sembra facile ma non lo è gemma vitale frammento di titanite ah oh ci sei già visti sto tizio wow come ho fatto a ucciderlo ah trucchetto ahia non ci ha per fortuna che ci ha fatto poco uno due nato poi finiti comunque questo scudo si vabbè protegge il 90 per cento dei colpi fisici ma vabbè tu lo senti poco c'è anche l'anello del ripristino lo senti minimo proprio cioè vale la pena tenerlo ecco qua ah pensavi di nasconderti eh stronzo cosa c'è dietro di me? oh il nostro amico è tornato non ti bastava una batosta vero? non ti bastava la prima batosta ne vuoi un'altra? sarà un feto? questa qua conta come boss fight no 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 spostati dal muro ah mancato fa anche un attacco in più in sta modalità in sta versione qua oh ahia mi ha preso bene ah in versione spirito oscuro no non adesso oh state lì vicino perché allora o gli state dietro che è meglio oppure gli state davanti vicino che ha meno possibilità di colpirevi no ti prego oh io non li giro intorno qua eh eh vola quella volta lì pensavo si è caduto a cazzo vola mi pare che sia tipo una ciminiera per le fumo ok eeeh megatron hai finito vieni qui ora fa morirà prima o poi sto stronzo oh io dico diciamo l'accetta che bene o male di fare i stessi danni abbiamo un po' meno ma ahì avanti hai paura di colpirmi? due e adesso adesso un cazzo ah ora basta nel nome del sole crepa oh funziona a ruotare il sole titanite scintillante ci è dato un bel po' di anime cerchiamo di non buttarle via succede spesso sta cazzata cosa c'è adesso una mummia con una falce ah lo sa già che c'è qua wow per poco com'è che abbiamo ottenuto 600 anime? ah già uno due io l'avevo colpito lo sapete avevo preso due morto allora al nero della cloranza cos'è ben più anime? qua aprì la porta cosa c'è dietro? c'è un un look at del selvatico appare più resti qui più sì la maledizione tranquilla 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 è una maschera spero ah grazie non sai cosa sia non sai cosa sia è utile sì sì ok mi racconti i cazzi tuoi ma dunque mi aiutti con il prossimo boss stanco essere stanco no io sto avendo una crisi di identità non capisco più un cazzo è un uomo una donna qualcuno me lo può dire con certezza chiave antiquata e dico andiamo avanti perché ho fatto quel verso non c'è niente qua sbaglio c'era una mummia qui c'è qualcosa di strano destra e destra non so distinguere la destra dalla sinistra resina dorata bene qua invece ah trovato non colpire non colpire l'esplosivo ti prego no 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 oh mi cavo in mano ogni volta che fa sta mossa due tre morto yeh giù mi sveglio un altro trucchetto questo abbiamo preso un portale eh sì un portale una porta odio i cani questi cani non non fate gli animalisti eh altro fallo due fallo in un giorno che felicità ma credo che ti ha fatto di male quest'area sì ok ma va bene ok tu saresti un fabbro o qualcosa di simile come mi hai chiamato io potrei ucciderti spero sparisci sparisci scusa oh pretenzioso il tipo e qua guarda comunque sei seduto su un forziere potresti spostarti te lo chiedo te lo chiedo eh amichevolmente freccia di ferro questo qua è pieno di roba c'è la butta in giro così veramente un grande di titanitte aspetta un secondo voglio sapere voglio vedere una cosa ah posso accenerlo e questa ah mi serve un'altra chiave vabbè intanto intanto il buco sul muro l'ho fatto oh ti sei spostato finalmente e qui c'è c'è martello d'artigiano oh il martello io ho fatto l'intero gioco questo martello serve a viti di forza io vi odio perché è forte acquista ascia pesante neanche per sogno questa leggera scudo allungato non è male ma la magia e il resto lo protegge da schifo o io dico facciamo una carità e compriamoglielo si grazie parla ahah ok va bene si ok 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 va bene ho capito ora scappo va bene ok però dicono che è un po' peggio ma a me non interessa perché non sono studiato quindi ci sono due recani e qua anche visto raccoglio oggetto anima di soldato ignoto ignoto ma dopo la velocità con cui attacca quanto gliene ho date fatto rapido e doloroso ora c'è anche qua eh ti ho detto io che c'era dai fallo d'ora no 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 una palla di fuoco fai 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 del falce fai la falciata fai la falce ecco perché perché stupidi ci nasce ok ha fatto male davvero fa di che le lancia con la velocità di un vecchio tontenne fiaschetta no due no oh oh mi ha rotto la guardia no porca troia ho sbagliato punto dai colpiscimi sbagliato fatto facile 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 qui c'è una pietra ok si un pietrificato non una pietra la prima volta che ne reviviamo uno si ti prego levati inutile essere buongiorno e buongiorno no non compro niente senti 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 che casino che fanno ma non sono infetterò bene pensavo di sì lancia di hide non posso ancora usare di cui non lancia nada così stanno tutti in fila siete ancora qui li buttiamo qua così in fila e dunque non ho dietro ok qualcuno qualcuno si è mosso qualcuno oh grazie non perché devo uscire è dovere oh ma io sono qui lo sapete oh uno sono accorto anche l'altro finalmente cioè io ho una giornata da fare ah giusto fai troll brutta storia due andiamo a ritroso mi colpisce anche l'altro morto ma perché le fai troll deve essere così irritante e un altro ucciso andiamo avanti a scimilare perché è già stancato questa guarda il martello già non possiamo dico accetta perché l'accetta è suprema uno se ne è accorto l'ultimo colpo è stato inutile due tre va eeeh niente fai terrò stavolta ok uno due tre quattro dopo un po' si comincia una oh no pensavo colpissero il uno due tre quattro però fa danni con quella spada eh due tre e mi ha rotto la porta vandoli ventinove gemme e qualcuno dobbiamo usarla chi è felice la coraggiosa buon vero te vedete quanti sono io non vedo ho il buco per gli occhi ma non vedo niente ok dicono come facevano a vedere con questi cosi si infatti che avevano anche delle frecce negli occhi eeeh io sarei l'avete lasciato su ma scusa ma mi stai pigliando per il culo o che ma dove sta andando il tizio scusa ma che che ma ma sono rimambizi oh uno è andato e l'altro cosa fa lì quello lì ma che cazzo fa due tre qua oh oh un atto qui niente bel bel come si chiama bel bel beckler la pellegrima preferisco farlo da solo andiamo giù ok c'è nessuno e si nessuno un cavolo due tre qua o funziona sempre sta comu puntuale come come controlla dei muri io non l'ho fatto prima mi sa che non c'è niente così impari no oggetto rotto che peccato va bene va bene pazienza non costa niente ripararlo eh vedete aspetta un buco un buco nel vuoto un buco nel vuoto pensieranno mica che sono così stupido allora io dico questo episodio è andato vi ho dato passo passo tutte le istruzioni per fare qualcosa di buono ora basta che torniamo al falò comunque tenete bene bene a mente il bucolo la che il buco la che ho fatto perché io la prima volta non l'avevo fatto devo anche sistemare la cimitaria qua dov'è? si si prepara mille neanche economico ragazzi è stato divertente ne abbiamo massacriati tanti e ci vediamo al prossimo episodio con le tre sentinelle della rovina che saranno cazzute qua